Musica Seduta aperta del Consiglio regionale sul nuovo ospedale alla Pellerina Visite oculistiche, l'attesa può durare fino a tre anni Il Consiglio regionale protagonista alla 35esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino Bentrovati a una nuova edizione di Consiglio News, il formate privo di immagini e interviste ai politici secondo quanto disposto dalla legge 28 del 2000 in tema di par condicio nei periodi pre-elettorali e referendari In primo piano il Consiglio regionale aperto sul futuro ospedale di Torino-Ovest alla Pellerina In aula le ragioni della scelta e le obiezioni di chi preferirebbe che venisse individuata un'altra area La costruzione del nuovo ospedale nella zona nord-ovest dell'Asle, città di Torino, è indispensabile Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla sanità aprendo la seduta aperta del Consiglio regionale che si è svolta martedì mattina nell'aula di Palazzo Lascaris Dagli studi effettuati, ha aggiunto l'assessore, risulta ottimale la dimensione di 511 posti letto su una superficie di 76.500 metri quadri su più piani con un'occupazione di suolo di circa 20.000 metri quadri Le aree individuate dal comune sono sette, tra queste l'area giostre della Pellerina è risultata la localizzazione migliore L'assessore all'urbanistica di Torino ha inoltre sottolineato come la scelta della Pellerina sia una scelta tecnica basata su studi accurati mentre i presidenti delle circoscrizioni 4, 5 e 6 hanno condiviso la necessità di una nuova struttura ospedaliera ma avrebbero preferito un maggiore coinvolgimento nella scelta della sua ubicazione È necessario che la nuova struttura venga costruita in tempi rapidi dal momento che da quasi 70 anni a Torino non si fa un nuovo ospedale Questo l'auspicio del direttore generale dell'ASL Città di Torino, Carlo Picco Fare finalmente un nuovo ospedale che unisca la Medeo di Savoia e il Maria Vittoria è assolutamente indispensabile e necessario Perché? Perché il Maria Vittoria è l'ospedale il cui pronto soccorso in regione fa più passaggi quindi sono dai 75.000 agli 80.000 passaggi annui quindi un ospedale più grande è assolutamente indispensabile Bisogna fare in modo che sia una struttura innanzitutto molto modulare fa in modo che queste strutture siano strutture che possono essere aperte o chiusa a seconda delle esigenze del periodo e poi ovviamente che abbiano la capacità di rispondere alle esigenze sia dell'area nord ma eventualmente anche di altre aree Parere contrario è stato espresso dal vicepresidente di Pronatura Torino Emilio Soave intervenuto anche a nome di WWF e Lega Ambiente che si è detto contrario alla scelta di un'area libera in una città che necessita di aree verdi Estremamente negativo che visto che si continua a parlare di limitazione del consumo di suolo poi certi interventi ricadano sempre in aree libere Per la Lega è intervenuto in aula il presidente del Consiglio regionale che ha sottolineato l'importanza della realizzazione del nuovo ospedale e rimarcato l'impegno degli operatori sanitari che lavorano in condizioni drammatiche in strutture inadeguate e in continua manutenzione Per il Partito Democratico si tratta di una decisione e di un investimento importante dal momento che Torino ha drammaticamente bisogno di nuovi ospedali Fratelli d'Italia ha sottolineato che Comune e Regione sono giunti all'individuazione dell'area della Pellerina in seguito a studi tecnici e si auspica che per il futuro il Comune tenga in maggior considerazione gli enti ad esso collegati a cominciare dalle circoscrizioni Il Movimento 5 Stelle ha denunciato che la scelta dell'area della Pellerina potrebbe comportare l'abbattimento di circa 200 alberi Le bonifiche in aree alternative richiedono tempo ma non è un buon motivo per andare a impattare su aree verdi e terreni liberi Al termine l'assessore all'ambiente ha assicurato che il nuovo ospedale interesserà esclusivamente l'area al momento presa in considerazione e non si espanderà In Piemonte per una visita oculistica si può attendere fino a tre anni Interrogazione dei moderati sul tema a cui ha risposto l'assessore alla sanità Quali misure sta attuando e intende attuare la Giunta per ridurre in maniera sensibile gli attuali tempi d'attesa per visite, esami e interventi oculistici Questa l'interrogazione che il capogruppo dei moderati ha rivolto all'assessore regionale alla sanità durante il question time L'allarme arriva dalle associazioni che denunciano la lunghezza delle liste d'attesa stimato in 30-36 mesi per prestazioni, visite e interventi chirurgici in questa specifica specialistica I tempi d'attesa raggiungono i tre anni anche per interventi ormai considerati di routine come la cataratta Secondo quanto dichiarato in una nota dall'assessore alla sanità sono state attivate procedure immediate per velocizzare lo smaltimento dei tempi d'attesa l'attivazione di tavoli di lavoro specifici l'adozione di agende di garanzia misure finalizzate all'aumento della produttività interna accordi con il privato accreditato la possibilità per pediatri e medici di famiglia di prenotare direttamente le prestazioni diagnostiche si tratta di misure previste dal piano straordinario di recupero delle liste d'attesa aggiornato al 2023 grazie al quale verranno apportati miglioramenti in termine di efficienza dell'utilizzo delle sale operatorie e una gestione più coerente delle visite e degli esami Esodati del super bonus 110% incontro a Palazzo Lascaris con una delegazione di costruttori, cittadini e imprese L'ufficio di Presidenza con diversi consiglieri di maggioranza e opposizione ha incontrato una delegazione di esodati super bonus 110% sull'emergenza socio-economica causata dal blocco della monetizzazione dei crediti da bonus edilizi prevista dalla legge 77 del 2020 Si stima che questa situazione abbia bloccato l'attività in 25.000 cantieri solo in Piemonte Esodati super bonus che rappresenta un'aggregazione di imprese professionisti e privati cittadini proprietari di immobili gravemente danneggiati da questa situazione ha accolto favorevolmente la proposta dell'ufficio di Presidenza di aprire un tavolo di confronto con i soggetti interessati nelle commissioni consigliari competenti invitando la giunta regionale Radici, diritti, salute, scuola questi alcuni dei numerosi temi che saranno affrontati nel corso dei tanti incontri organizzati dal Consiglio regionale del Piemonte in occasione della 35esima edizione del Salone del Libro di Torino Il Consiglio regionale del Piemonte conferma anche quest'anno la sua presenza al Salone internazionale del Libro con decine di incontri e iniziative che spazieranno su molteplici temi salute, diritti, scuola e infanzia, animali, sicurezza, magia, sport L'arena a Piemonte è totalmente rinnovata negli arredi e nella grafica è dedicata quest'anno alle bellezze del Piemonte viste attraverso degli specchi in linea con il tema del Salone Nella giornata inaugurale di giovedì 18 maggio l'arena apre al pubblico con un evento dedicato alla festa del Piemonte in programma il prossimo 19 luglio prima celebrazione dopo l'ufficializzazione della ricorrenza avvenuta con legge regionale Tra gli appuntamenti dedicati alla salute l'incontro Fragili come uno specchio quando il cibo non ti rispecchia organizzato dagli stati generali prevenzione e benessere sarà dedicato ai disturbi alimentari degli adolescenti Nello spazio adiacente all'arena Piemonte la piazza dei diritti inaugurata nella scorsa edizione del Salone sarà dedicata alla donna simbolo della lotta contro le libertà negate in Iran Masa Amini morta dopo essere stata arrestata per aver indossato il velo in modo non consono A questo evento si lega idealmente anche il Consiglio regionale aperto che si terrà straordinariamente per la prima volta al Salone lunedì 22 maggio sul tema della condizione della donna in Iran e Afghanistan Domenica 21 maggio sarà dedicata ai bambini e alle famiglie con due momenti a cura del Circolo Amici della Magia Lunedì 22 maggio sono in programma due appuntamenti rivolti agli studenti piemontesi e ai loro insegnanti la premiazione dei vincitori dei concorsi indetti dal Consiglio regionale in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale e l'incontro la scuola al tempo dei social didattica a confronto nell'era digitale L'appuntamento Fair Play avversari in campo amici nella vita organizzato dal difensore civico e dalla garante per l'infanzia e l'adolescenza con la partecipazione della FIGC affronterà invece il tema delle buone regole da seguire nello sport e nella vita rispetto dell'altro gioco pulito e tifo sano Sul sito cr.piemonte.it è disponibile l'elenco completo degli eventi in programma Per questa edizione è tutto Prima di salutarvi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci Grazie a tutti